ero vado in farmacia per comprare qualcosa mi piace ehi non ti preoccupare sono venuto 5 minuti dobbiamo ero 5 minuti ti preoccupare ora vengo papà vado in farmacia seggian papà 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 - i Vincenzo, sta calmo, non fate male che dovevamo andare a Pinergo di messo tardi, eh? Calmo, Vincenzo, piano, 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 piano